Un saluto come state ben ritrovati, vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto con il vostro punto di vista, di lasciare un like e di iscrivervi da questa parte. Notizia direi incredibile per il Milan che sta per ricevere delle offerte per Teo Hernandez, si parla di un'offerta da 70 milioni del Manchester United. Milan che da quello che risulta ascolterà le offerte, valuterà le offerte e ritiene tra i big Teo Hernandez il giocatore più cedibile in questo momento. Milan che con le discrizioni giornalistiche di oggi vuole preparare un po' il terreno agli occhi dei tifosi per un'eventuale cessione di Teo Hernandez che non è incedibile. Il Milan non ha la necessità di vendere ma se arriva un'offerta importante è disposta ad ascoltarla e a cedere a Teo Hernandez. A me sembra qualcosa di incredibile perché il Milan ha raggiunto il pareggio di bilancio, ha anche un po' di attivo, ha fatto anni di sacrifici e ora sul più bello quando devi raccogliere vendi un tuo big. E' chiaro che poi facendo player trading puoi rivestire i soldi, costare magari altri giocatori. Però Teo Hernandez, converrete con me, è un big del Milan e i tifosi lo vogliono assolutamente confermare. Un'estate che inizia non col piede giusto, vedremo poi ovviamente Milan potrà anche decidere di rifiutarle, ma quello che filtra oggi è che il Milan ascolterà invece le offerte per Teo Hernandez. In particolare dall'Inghilterra, lo United è il club più convinto in questo momento, ma ci saranno anche altri club interessati al giocatore. Una volta che tutti sanno che alla giusta cifra Teo Hernandez partirà, cosa che invece prima non era mai accaduta con Maldini che rispediva sul nascere ogni proposta. Incredibile che il Milan valuti una cessione di Teo Hernandez per quanto mi riguarda. Leggerò i vostri commenti qui sotto, vi invito a commentare numerosi, a lasciare un bel like da queste parti e iscrivervi in questa zona se non avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdere nulla sul calcio mercato estivo di tutte le big. Mando un abbraccio, una buona giornata, ci vediamo più tardi, commentate.